C'era un'unica mano dietro agli omicidi delle prostitute dell'agro, quelli della 63enne Santina Rizzo e della 74enne Maria Ambra, avvenuti a Nocera Superiore, il primo nel 2010 in una fredda serata di vigilia di San Valentino e il secondo quasi un anno fa, il 30 maggio 2014. Le indagini avrebbero portato all'autore, dopo anni, specie nel caso di Santina Rizzo di ipotesi, arresti, prove indiziarie e sopralluogui effettuati dai reparti speciali dei carabinieri. Il giallo è stato dunque svelato, una sola mano dietro ai due omicidi. Ma torniamo indietro, ricostruiamo quei terribili momenti. Cinque anni fa, in via Mercato Boario, nella sua casa, Santina Rizzo fu uccisa in modo tragico, colpita in varie parti del corpo con un paio di forbici trovate sulla scena del delitto e ancora intrise di sangue. Scene di un crimine che solitamente avevamo visto in tv, nelle serie americane, mai o quasi mai nel nostro territorio. Santina Rizzo fu dapprima strangolata, forse con un asciugamani, poi colpita ripetutamente sulla bocca e nel basso ventre con le forbici. In casa nessun segno di forzatura della porta d'ingresso, quindi l'assassino era probabilmente noto alla vittima. Il tempo passava, le indagini proseguivano, un operaio di Cava dei Tirreni era stato arrestato per questo efferato omicidio pur proclamandosi sempre innocente davanti ai giudici. E dopo cinque anni ecco che la mano omicida andava nuovamente all'opera. Sempre una prostituta avanti con l'età, stavolta Maria Ambra, originaria di Castel San Giorgio, conosciutissima sul tratto della strada nazionale che da Nocera Superiore porta a Cava dei Tirreni. Si prostituiva in via Lamia. Fu trovata morta all'interno di un capanno, seminuda, con echimosi sul corpo e il piede di una rete da materasso conficcato in bocca. Anche qui, indagini a 360 gradi, inizialmente fu indagato per l'omicidio un uomo originario di Scafati. La baracca era utilizzata dalla donna di 74 anni per ospitare gli uomini che l'andavano a trovare. Una delle visite però le fu fatale.